Allora, teoricamente da adesso siamo già dentro... cioè dentro al video, basta che... ci siamo? Ci siamo, ci siamo. Allora, non serve che io faccio intro perché tanto l'intro c'è già. Allora, ragazzoni, né io né Carli citeremo per tutto il video. Il nostro obiettivo è arrivare più o meno... il più avanti possibile in una mezz'oretta, 25 minuti. No, ho sbagliato, no, mi sa che ho sbagliato. Ragazzoni, quattro cose prima di iniziare il video. Lasciate like, iscrivetevi al canale, seguitemi su Instagram per non perdere gli aggiornamenti e ci vediamo in live stasera. Non puoi salire lì sopra, vero? Forse dalla ferrovia bisogna andare. È vero. Ok, sì, 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 da qui, da qui, da qui. Era giusto. Allora, vedi, dai. Aspetta che abbasso un po' i chunk, ok. Ah, ma è una cavolata. Charlie, è una cavolata. Carli volevo dire, scusami. Hai visto che sto diventando God, più o meno. No, vabbè, tra, non ti preoccupare di queste cadute. Tanto lo sappiamo, cioè, chill. Se vuoi, quando vuoi che mi giro per guardare un attimo il pianeta, dimmelo, ok? Ok. Ok. Possibile questo? Sì, sì, perfetto. Ok, cerco di non morire. Ma va, non... Ah! Ok, va bene. Easy. Ok, checkpoint. Ah, da qui avanti, sicuro. Ah, va davanti io che non cado mai, eh. Ah, ok, ok. Ok, fai strada tu, allora. Dai, questo è facile, facile. Chat, voi siete bravi col parkour? Dai, dai, ce la stiamo facendo. Ce la stiamo facendo. Ma sì, facile. Easy, easy. Qui non riesco a capire. Ok, per me bisogna saltare, esatto, qua sopra. Ma, oh, ma che arriva... Ma, ma stai giocando te? Sì. No, ma io mi sto proprio... Ah, ok, ho capito. Assante che sono caduta, devo rifarlo. Hai visto? Sono diventata god. Ma sei davvero diventata god? Eh, mi sono allenata. Dopo il nostro primo video ho detto, no, sono troppo scrauso. Bisogna migliorare. Che poi il nostro video era bello che... Oh, ma... Stragod. Stragod. Allora, qui... Vabbè, questo è un checkpoint. Ok. Allora, è qui credo avanti di qua, ma sì, per forza. Ci sta? Ok. E io sono bloccato, no, è sbagliato, è sbagliato. No, bisogna saltare qua sopra. Eh, infatti. No, ma secondo me ti sei allenato off camera e hai già giocato tutta la mappa. Eri per... Ecco perché eri lì sopra, te. No. Ma non è vero. Ma sono proprio neanche lì più. Carly God, esatto. Così vi voglio, chat. Carly God. Oh, ma è davvero Carly God. Ma raga, a me vi giuro, io ho visto Carly prima e dopo. Voi state vedendo... Ah, ma io c'ho tutti gli hitbox attivi. Ok. Allora, da qui sarà sicuro qua. Sì. Sul fungo. Sull'erba. E boh, c'è un buco. Oh. Ok. Allora, Carly, qui se si cade e si muore, non picchiarmi. Allora, però non c'è lo spazio per saltare. Aspetta. Non c'è lo spazio. Non c'è lo spazio. Mmm. Come? No, zi, stai cittando. Stai cittando. Come hai fatto? Salta. No, zi, stai cittando. Dammi dell'acqua. Non ce l'ho dell'acqua. No, zi, stai cittando. È impossibile, Carly. È impossibile. Mi sembra una venditrice di acqua. Vai, vai. Salta chinato. Salta chinato. No, zi, zi, mi vuoi fare fare una brutta figura? Allora, certo, secondo me stai giocando Carly o Kendall? Perché io ho visto a Carly fare... Perché è nella scrivania? Mi fido. Allora, spiegami, fammi il tutorial. Come lo fai? Eh, è salto, cioè. Guardami. Guardami adesso che lo faccio. No, zi. Zi, stai imparando. Stai imparando. No, ecco, vedi, sono caduta anch'io, vedi. Il problema è risolto. Ma... No, dove sono sponato? No, no, ti puoi tippare qua, ti puoi tippare qua. Ok, tagliettino tattico. Shhh, la chat non lo sa. Taglio. Corri e fai un saltino. Eh, ma vieni prima qua, perché se no... Ok. Vai, ci sono. Allora, corri e fai un saltino. Ma zi, non va! Ma non va, fallo te! Cioè, devi... Devi praticamente shiftarti. Shiftati. No, sto... No, zi, sto tiltando. Non sto capendo. No, zi, zi, vai avanti te. Ok, vado avanti io. Ma come fai? Cioè, devi fare dei saltini piccoli, shiftati. No. No, let's, mi hai insegnato tu a saltare. Oh mio Dio, oh mio Dio. Oh, aspetta. Spamma il salto e poi salta. Ah. Devi shiftarti e poi salti. Fatto, no? Eh, eh, quasi, sì, 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 quasi. Allora, questo lo faccio sicuro. Te ti shifti e poi salti. Allora, questo lo faccio sicuro. Però, aspetta, non c'è via d'uscita. Non ha senso che vieni qua. Perché non si sa dove andare. Cioè, c'è tipo un buco nel cielo. Ma va, ma c'è per forza la via d'uscita. No, no, davvero, non c'è. Un atto. Guarda. Ma com'è possibile? Abbiamo fatto tutto questo per niente. No, ma perché? Ah, perché bisognava fare il tagliettino tattico qua, ecco, perché. No, ma scusa, ma com'è possibile sta roba? Boh, per me non era da fare, allora, quel parkour. Ma va, ma sì, ma no, ma è perché ti facevano fare il volo. Il volo? Eh sì, perché qui tu praticamente avevi... Come hai fatto? Ah, ok. Ok, ok, ok. Ok, riusciamo? Allora, Carly, guarda. Guarda, vai avanti te, perché la stai letteralmente goddando. Quindi vai avanti te. Ok, vado avanti io. Vai, io mi fido. Ok, allora, per di qua. Aspetta, vai avanti tu, se no. Ok. Ma sì, ma è nether, casa mia. Eh, infatti, è casa tua, è giusto che ci vai tu. Allora, questo salto, dobbiamo arrivare lì, eh. Ma è facile, bang. Dove? Ok, ok. Eh, questo forse un po' più... Ok. O a sinistra o a destra si salta, ok. No, è facile, è facile. Qua. Qui. Ok. Fatto. Ma dai, è una cavolata. Nel mio attimo che mi devo sbollentare, ok. Ma... No, no. Guarda, guarda, guarda. Da qua sopra ci sei arrivato. Ah, easy. E vabbè, non l'ho fatto anch'io così, dai. Eh... Aspetta, dove sei sceso? Ah, ok. Allora, ah, basta cittare. Carli, basta. Lo sto cittando. Sai cosa, però? Perché se questa mappa è del 1.16, mi sa che... Oh, scusa. Mi sa che blocchi... Manchino dei blocchi. Ma infatti mancano dei blocchi. Mancano dei blocchi, allora. È per questo che non andiamo avanti. Ma come hai fatto? Ma come? No, zi, stai barando. Come hai fatto? Fai un salto lungo. Non ho barato. No, zi. Zi, stai... Parinzone. Seturre del parkour. Oh, ma sto... Fa vedere. Ok, te lo rifaccio. Guarda. No, zi, impazzisco. Ah, ok. Visto, visto. C'è un po' di video in questo cheat. Ok, adesso qua sopra ti faccio io strada. Qua, 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 easy. Si fa qua sopra. Ah, qui anche secondo me mancano dei blocchi. Perché non... Mancano dei blocchi anche qui. Sono tutti invisibili. Sei d'accordo che manchino blocchi? Sono d'accordo, sono d'accordo. Ok, non mancano più, non mancano più. Non mancano più. Ultimo livello. Ah, comunque, davvero. Questo lo tagliuzziamo e viene come il primo, eh. Zero cheat. Va bene, va bene. Però farlo tagliuzzare bene, se no si vede. Ah, sì, sì, sì. Diventa proprio tutto affettato. Non lo taglia, diventa un affettato sto video. Allora, ragazzoni, il video è finito. Se vi è piaciuto, lasciate like, fate quello che dovete fare. Commentate se volete una parte 3. Da Carli e Parli, inserito, io vi do un bacione. Che Carli, ma che Carli? Ma che ci vale? Ma ha giocato male? Ma è un'ora che gioco io. Ho anche dovuto sbagliare alcuni salti per farlo sembrare credibile. Ma era troppo ovvio! Era troppo ovvio! Era troppo ovvio! Anzi, Carli nel primo video, Carli nel primo video non riusciva a fare un salto. E ho detto, ma come cavolo è possibile che abbia fatto un salto? Anzi, era troppo ovvio, sono stupido. Ma è scaricato la mappa sbagliata perché l'hai buggata tutta. Il server è 1.16, ma la mappa è 1.17. Mancano veramente i blocchi! Mancano davvero! Sì! Sto male, vabbè. Il video è finito, un bacione. Ciao, ciao. Ciao, Ale. Carli, ha giocato Ale! Sì, c'era lui con la segna sulla tastiera. C'era io accanto e che commentava l'appartito. Anzi, era ovvio! Ma sì, ma infatti io non capivo! Ma perché... Oh, immagina... Allora, sai che noi abbiamo registrato il primo video insieme, no? Sì! E minchia, quanto è stato difficile fare quel video! Infatti, quando ti vedevo saltare, cio... No, non è lei!